Musica Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, Emerald E siamo oggi finalmente con la seconda stagione del Road to Evil su Preseditivo 6 Per chi non lo sa e quindi per chi mi segue da poco Il Road to Evil è stata la prima stagione di un let's play su Resident Evil 4 Sempre per PC E questo, siccome quella serie è finita, ho aspettato che uscivesse per PC ed eccoci qua Quindi, incominciamo allora Metto su media, in modo che ho un pochino più di FPS durante il gioco Perché sto anche registrando, quindi Sennò ho paura che vada a scatti, quindi diciamo ok L'uomo si tappa bene a 29 e si parte Il gioco è completamente italiano, quindi i sottotitoli Armi, cioè tutti i nomi e anche i diavoli, tutti in italiano Ok Re.net, ah ecco una cosa Quando sono i filmati, metterli in muto io Così voi potete vederli Così voi potete vederli Ciao 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Letta la ragazza Guardiamoci intorno Spazio 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 minchia che figo ok comunque sempre gli episodi saranno un quarto d'ora e venti minuti sempre così ok dai siamo a 30 fps precisi allora forza non è ancora finita andiamo avanti comunque per chi non lo conosce il ragazzo è Leon e questa ragazza non so che sia tieni duro Elena siamo a caristi ok comunque abbiamo capito che si chiama Elena quindi vediamo un po' chi ha non te la caverai così forza vi vi ok ok la c'è una porta dopo quello che abbiamo passato sarebbe un peccato arrendersi ok spazio anche qua c'è una spranga di ferro pezio erra grande erra erra nooo erra perfetto sono i stessi sono gli stessi sentivo il 4 quello della porta sempre gli stessi allora ma è tutto da solo sta facendo ok già la vediamo di qua eh grazie a caso dove dovremmo andare qui abbiamo quasi fatto ci spazio ok è un soldato e c'è un'arma cazzo c'è me cos'è quella qua? quella là è una scaracca prendilo ma pericolo comunque ragazzi se volete un tutorial su come scaricare mettere in italiano eccetera eccetera e se senti forse basta scriverlo nei commenti facciamo una pausa facciamo una pausa si ecco già non mi piace sto post vale tipo pieno di zombie sicuro ecco no l'abbiamo visto allora lo scopri più un zombie deve esserci un kit di pronto soccorso qui intorno trovo un getto curativo ok spazio quanto odio vedere buoni soldati morire così eccolo l'erbetto l'erbetto che devo fare? che ci siamo sì ma ci siamo anche un muro ok per combinarlo ok ok resisti Elena checkpoint oggi sono morti troppi bravi agenti non finirai anche tu nella lista l'erbetto lo scopri l'erbetto lo scopri lo scopri lo scopri l'erbetto 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 Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Che devo fare? Ok, ok, capito, capito Su, diritto non c'è il bar Fingo Chef Tony for the week Non puoi abbassare la guardia un attimo Bello, siamo in tic tac Dai check point di nuovo Come ti senti? Andrà tutto bene credo Grazie Leon, che stai facendo? Devi andartene da lì, ora! Andiamo alla torre quadra Cosa? No, è troppo pericoloso Ci sono agenti BSA e sopravvissuti Non posso abbandonarli Ok Allora ti aiuto Ti mostrerò la via più sicura Grazie Annika Eh, c'è l'è Allora, effetto Ho messo la guida operativa al tuo palmare Puoi consultarla in un lampo Vieni qua qua Vieni qua qua Eh, che figata Sì Sì, prima le porte lente lente proprio Ah, perfetto E così impugniamo l'arma Eccellente Cazzo Ma che diavolo Ah, come qui? Sì Sì Porca putta Ma dove siamo? A Tokyo? In Cina? Dove siamo? Annih Annihgan Da qui si può arrivare alla torre Sì Continuate in quella direzione Spazio Proprio che buttiamoci così Oh ma che cavolo FG Ah, ok, 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 ok Posta Sì Sì Per Perché mi ti feci scegliarmi? Ah Minchia di cose Sì Non Non FGo Parla Un luogo Sì Fiu Fiu Basta Certo Sempre che viene qualcosa vede ... Carica, 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 carica Erbetta Ok Ma che altrimenti abbiamo? Fushiti, fushiti Oh, cazzo Ok Però non conviene usare un fucile di fucisione Chiamese articolo Oddio Le pistolette doppie, coltello, chapeau Fucile assalto, usiamo questo, bello Noi dobbiamo andare Di qua Ecco E' un po' che c'è C'è un po' che c'è C'è un po' che c'è Mia Bella Salite Ma che... Merda Non riesco a perdere quota Forza Forza In alto Forza In alto Questo affare non reggerà a morto Ancora pochi isolati No No, ma di ora No, ma di ora Oh cazzo Pesco Nel Nathan No Nel No 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 Nel Nel Si Come è tenna Oddio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.